In Bada, questo è il campo partente con una macchina che prende gradualmente velocità, lo stacco in questo istante, 8 di piaggio in vantaggio, veloce, 8 al scha e offono, ma che ha tentato il cese, esce per il cide, ripi, 8 di piaggio, abatto in strada, con il santo iniziale coperto in 14, intanto la rottura veloce in moto, il campo viene in via dalla seconda fila anche in Bada, stavolta in errore, e così le posizioni sono 8 di piaggio, davanti a Opals, il cese, esce Giorretti, all'argo ombra del vento, il quarto iniziale in 29, appena abbondante, adesso 8 di piaggio, approda ai complessivi 600 iniziali in 46 carce, Opals si è inciso, uscì, prolunga allo stanno seguito dal Bionardo e Versalde, in corda, nelle vittime aerea, da testa, questo è il momento, ma non è stato necessario, questo è il mannato, è crescente in 3 carce, ha ripreso il frato, ha ripreso il frato, hociro progge nel secondo quarto, per questo momento, il vento si è stato più compatto alle sue spalle, non era 3 ad avanzare in terza ruota, per il cale, non è quello che ha preso nel tribune, accenna il controllo del Rado, intanto hociro progge, quindi il pilone si si intende il numero 19, a 5.50 alla conclusione, si spoglie sempre un reddente, e calciano corda, all'algo 2 Rado, e poi il cese a S, Osidda, all'esterno, la curva conclusiva, ecco al comando, poi Opals, scatto in forza di Osidda, sul pilone, la curva conclusiva, a largo di ombra dell'evento, l'occaveri, l'occa di piaggio al comando, su Opals, Osidda al centro-crista, l'attacco di Osidda, ecco che però si difende, e ancora bene, 8 di piaggia, che venete a concludere l'inito, su Osidda, Opals, Olciosi, e ombra dell'evento.